Non che ti interessi, Morty, ma sono stato in una dimensione del futuro con medicine molto avanzate. Hanno il siero a giusta gambe anche nei supermercati. Lo trovi dappertutto, Morty. Wow, roba da matti, Rick. C'è solo un problema, Morty, un piccolo intoppo. In quella dimensione sono così evoluti che hanno bloccato il processo di invecchiamento. Sono tutti giovani e lo restano per sempre. Io ero l'unico vecchio là, Morty, ed era come se fossi una celebrità vivente. Erano tutti affascinati da me. C'erano molte donne attraenti, Morty. Loro hanno passato delle notti con me. Me la sono spassata con un mucchio di giovani donne, ma ho sprecato molto tempo e la mia sparaporta è interdimensionale. Non ha più carica, Morty, non ha più carica. Ora sono un rottame e non funzionerà mai più. Oh, Gesù, Rick, è un disastro. Cosa facciamo? Io dovrei essere a scuola adesso. Come torniamo? A casa come? Torneremo a casa, Morty. C'è solo una piccola scocciatura da affrontare. Dovremmo passare la dogana interdimensionale, quindi dovrai fare la tua parte. Morty, quando saremo alla dogana dovrai portare questi semi in bagno e nasconderli bene bene dentro il tuo sedere, Morty. Il mio sedere? Mettili dentro, figliolo, più in fondo che puoi. Oh, cavolo, Rick, non voglio fare questa cosa. Qualcuno deve farlo, Morty. Quei semi passeranno la dogana solo nel retto di qualcuno, Morty. E non posso usare il mio. L'ho già fatto troppe volte, Morty. Ma tu sei giovane. Tu hai tutta la vita davanti alla tua cavità anale. È ancora tonica, ma le api le fallo per il tuo nonno, Morty. Metti quei semi nel tuo sedere. Nel mio sedere? Avanti, Morty, ti prego, Morty, devi farlo. Oh, cavolo.